Siamo in Media Plaza con un paese particolarmente importante perché sarà il prossimo paese, andiamo assolutamente dall'altra parte del mondo, andiamo in Australia, andiamo a Sydney, l'Australia sarà il prossimo paese ad ospitare il congresso mondiale delle Camere di Commercio. Benvenuto al direttore esecutivo della Camera di Commercio di Sydney, welcome, welcome to Media Plaza. Il prossimo congresso sarà nel vostro paese, è vero? Sì, è vero, è in settembre 2017, è un momento molto emozionante per noi, siamo molto aspettati a questo. Siamo pronti? Abbiamo molti plani, ma è una delle ragazze che veniamo a Torino, per vedere come farlo bene, per avere lezioni sulle cose che avete fatto e che il vostro avviso è stato per noi, ma più importante per noi promuovere per tutto il Movimento di Chamber, le opportunità per il 2017. E siamo molto emozionati che abbiamo stato scelto per gestire il 10th World Chambers Congress. E come per questo congresso, questo evento in Turin? Questo è stato meraviglioso, e che un'ottima settimana. Abbiamo avuto un'ottima opportunità di incontrare con persone di più di 100 paesi, che hanno venuto a visitare il nostro stand, abbiamo venuto un sponso, e abbiamo visto alcune persone, alcune persone che hanno conosciuto il Movimento di Chambra, che è il Movimento di Chambra, che è venuto ogni secondo anno. Abbiamo avuto un'ottima opportunità di Chambra in altre parti del mondo, abbiamo signato un Memorandum di Understanding con la Chambra di Chambra di Commerce, e che è venuto da noi incontrare con loro nel lato World Congress, e da loro capire uno dei prodotti che abbiamo sviluppato. Quindi abbiamo signato un'ottima idea con loro per aiutare adottare uno dei nostri programmi, e questo è il beneficio di un Chambra di Chambra. Torino ha stato un'ottima settimana per noi. Do you like Torino? Per molti di noi è il nostro primo visito a Torino, probabilmente non è il nostro primo visito a Italia, ma abbiamo aperto i nostri occhi a una città più bellissima. E sull'organizzazione di questo evento? Abbiamo stato molto imprezzato, non è una cosa facile da fare, abbiamo 1500 delegati, molti perspectivi di più di 100 paesi, quindi bisogno di essere in un paese, in tempo, ma abbiamo fatto il evento di cocktail, stiamo aspettando alla gala di notte, sappiamo che è in un'ottima settimana, e poi la possibilità di vedere un po' di comitia. Abbiamo stato molto animati a quello che abbiamo visto e appena appena a Torino. E qual'è il business bridge tra l'Italia e l'Australia? Il business bridge, noi conosciamo l'Italia molto bene, molti australiani hanno un'italiano, l'Australia importa milioni di dollari e quindi abbiamo fatto a tutti i italiani di fare un'italiano di più di più di più di un'italiano e quindi abbiamo fatto il nostro prezzo di un'italiano per quanto riguarda l'italiano l'Italia. Il nostro compagno è molto forte. L'italiano migratori che hanno arrivato nell'italiano per i più 100 anni, ma anche in questo settore in l'20e secolo e abbiamo bisogno l'italiano Italian restaurants are everywhere, Italian wines are enjoyed, but more than that the culture of Italy, your great operatic tradition, we have a wonderful Sydney Opera House, so we love to perform Italian operas in our Sydney Opera House and it's those sort of links built off the understanding of the knowledge of your heritage, the knowledge of the people but a really strong business environment as well. Thank you very much and see you in Sydney. See you in Sydney in 2017. Thank you very much.